Salvo Castellone ritorna in Lombardia dopo un viaggio in Romagna. È ora di riprendere in mano la strategia di comunicazione assieme alla fida moderna, soprattutto ora che presentiamo a Varese la nuova coalizione della destra, demagogia e convenienza, durante appunto la festa dall'amore. Dalla vita avventurosa di Salvo possiamo ricavare immagini utilissime come quelle quando si allenava nella lotta libera. È ancora Salvo presentato come l'agricoltore altaico tradizionale che se i rinoceronti gli invadono il campo, lui li solleva e li butta via. Bene, questo mette in mostra l'animus, dice Moderna che ha studiato Freud e Salvo non capisce, l'anima di chi. E poi le foto di quando Salvo cavalca la carcassa dello squalo bianco che avevano ammazzato per far dispetto agli ecologisti. Bene, è un simbolo fallico, dice Moderna che ha studiato Freud e Salvo non capisce, cioè un cazzo, chiede Salvo. Freud, l'unica roba viennese che conosco è la torta.